Un momento per condividere valori comuni come la cooperazione e il rispetto delle regole per sottolineare l'importanza della formazione scolastica per lo sviluppo ed il progresso della società. Militari dell'82esimo reggimento fanteria Torino e giovani studenti insieme questa mattina all'anfiteatro del castello di Barletta per la cerimonia di alza bandiera collettiva. Alunni delle scuole Fieramosca e Fra Gianni hanno letto pensieri dedicate al tricolore e alla nazione. Intervenuti anche il comandante del reggimento, il tenente colonnello Alfredo Mastropasqua e il vice sindaco di Barletta Giuseppe Di Leo. L'agurio ai ragazzi arriva dal dirigente dell'ufficio scolastico Bariebat Giuseppina Lotito. Un buon anno scolastico soprattutto sereno e di accompagnamento. Noi vogliamo che l'attività formativa è la nostra priorità e vogliamo che i nostri ragazzi si sentano sempre accolti e seguiti da tutta l'attività che viene fatta a scuola. Sappiamo che la scuola è quasi tutto nella formazione dei ragazzi, il loro star bene a scuola e il loro star bene nella vita. Quindi ci auguriamo che a partire da queste manifestazioni che sono significative, perché vanno a richiamare tutti i valori costituzionali, i valori di legalità, il sapere dove siamo e dove vogliamo andare. Certamente questo ci unisce e richiama anche noi, autorità presenti, alla responsabilità. Ognuno di noi è responsabile del suo settore e quindi facciamo in modo che i nostri ragazzi possano serenamente affrontare la vita scolastica. Positivo il rientro a scuola dopo la fine delle misure restrittive dovute all'emergenza pandemica. Diciamo che siamo abbastanza sereni dal punto di vista dei docenti, nel senso che finalmente abbiamo avuto tutti i docenti nelle classi, ecco ne mancheranno ancora pochissimi e anche come personale amministrativo è stato dato un accompagnamento alle scuole ad integrazione dell'organico già presente. Quindi ci auguriamo che le criticità che centralmente comunque ci sono, c'è sempre la volontà di risolverle insieme e la volontà dell'ascolto da parte dell'ufficio scolastico regionale nella risoluzione dei problemi.